Turandot, ultima ed incompiuta opera di Giacomo Puccini, nasce da una fiaba ambientata nell'antica Cina e porta con sé musiche, scenografie e costumi da un mondo, soprattutto all'epoca in cui è stata scritta, lontano e misterioso. La storia racconta di come Calaf, principe ignoto giunto nella città di Pechino, riesce a sciogliere con il suo amore il gelido cuore dell'aspietata principessa Turandot. Anche all'interno del nostro museo un'intera sala dedicata a Turandot. Qui troviamo esposto uno dei cimeli di cui il nostro museo va più fiero per la sua bellezza ed unicità, il costume originale della principessa Turandot, indossato per la prima rappresentazione dell'opera al Metropolitan di New York il 16 novembre 1926. La realizzazione dei figurini per i costumi per Turandot viene affidata da Puccini stesso al pittore fiorentino Umberto Brunelleschi, che trasferitosi a Parigi, oltre alla pittura, si occupava di allestimenti scenici per le Folies Berge, il Teatro Châtelet, il Marigny. Puccini incontrò l'artista nella capitale francese e, visti i suoi lavori, decise che lo avrebbe affiancato ad un altro pittore fiorentino, Galileo Chini, incaricato della creazione dei bozzetti scenici per la nuova opera. È ormai noto che per la prima del Teatro alla Scala del 25 aprile del 1926 i figurini di Brunelleschi non furono utilizzati come avvenne invece per tutte le rappresentazioni successive a Roma, a Vienna, a New York. Al contrario, la campagna promozionale di Casa Ricordi e tutta l'iconografia prodotte dalle officine grafiche della casa editrice, entrato ormai a far parte dell'immaginario collettivo, furono basate sul lavoro di Umberto Brunelleschi. Tutti i materiali sono oggi conservati dall'archivio storico Ricordi di Milano e consultabili nella collezione digitale online. La storia dei costumi della prima assoluta di Turandotto al Teatro alla Scala è il soggetto della mostra Turandotto e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba, che il Museo del tessuto di Prato propone dal 22 maggio al 22 novembre 2021.